Stamattina 24 luglio 2021 Stiamo accogliendo dei pomodori dall'azienda Francesco Sollazzo Pomodori Doc Biologici Oggi e domani facciamo un'offerta Pomodori di gelo e la cassetta De gelo e la cassetta che sono 12 kg abbondanti di pomodori Stiamo svendendo perché abbiamo bisogno Svendiamo questa roba E per far assaggiare ai nostri clienti il prodotto Il prodotto che si vende, il prodotto che va bene Roba biologica che la possono mangiare anche i bambini La possono mangiare tutto Che non fa male a nessuno Allora oggi e domani alla Fortunato di Punto Rosa Rogelio e Aurelina abbiamo pomodori in offerta De gelo e la cassetta Cliente, amici, venite a comprare E assaggiate questo prodotto e vedete cosa è assaggiato Mangiate questo prodotto e mangiate roba genuina Mangiate roba bella Roba sana Roba cottura di queste mani Chiari amici, vi ringrazio Ci vediamo da protivare il dolgo Grazie 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 Grazie